Io sto con Carmen, questa l'unica certezza di Carmen Guarino, che dopo l'ennesimo e a questo punto definitivo no ricevuto dal Partito Democratico e dal centro-sinistra per le regionali campane, conferma di volersi comunque candidare, dicendosi pronta a valutare qualunque ipotesi, a comunicarlo ufficialmente la stessa responsabile di Rete Solidale, che dopo aver macinato chilometri e chilometri nei vari centri della provincia di Salerno per ascoltare i cittadini, ha convocato una conferenza stampa per confermare la sua volontà di andare avanti, con l'intenzione di mettere a disposizione l'esperienza. Da un lato la critica al centro-sinistra, per non aver voluto scommettere su di lei o comunque credere nel progetto proposto. Dall'altro il messaggio chiaro al centro-destra è da Caldoro, che dovrebbe accoglierla nella sua lista civica, Caldoro presidente. Guarino ha attaccato senza mezzi termini il segretario provinciale del PD salernitano Landolfi, chiedendo rispetto come donna e come cittadina per la bocciatura alla sua candidatura tramite la stampa, senza alcuna comunicazione ufficiale. Sono in campo, lo confermo, non mi tiro indietro, anche perché tutti coloro i quali mi sostengono e mi hanno accompagnato in questo faticoso percorso mi sollecitano a farlo. Sono sempre stata un'indipendente, non vengono a testa da dipartito, il mio programma è quello che oggi ho presentato e continuo. Chi sposa il mio programma sposa anche me. Quindi per adesso la lista qual è? Parliamo concretamente. Lei dice il mio programma è quello, io ci sono, ho metto a disposizione la mia esperienza a qualunque coalizione, a qualunque candidato? E dunque, fino ad oggi, nonostante le sollecitazioni, le richieste ufficiali fatte al centro-sinistra a cui ho pensato in qualche modo di appartenere per cultura personale e familiare, non ho ricevuto risposte positive, anzi nelle ultime ore risposte negative. Quindi io sono fuori dalla lista del Partito Democratico, è noto perché è pubblicata, anche se la direzione nazionale forse dovrà dare anche un parere, ci sta anche qualche escluso all'ultimo minuto e dalle liste civiche non ho avuto nessuna opportunità. Credo che invece bisogna andare avanti, a prescindere. Io credo nei temi, nella politica un po' meno, sinceramente, dopo questa esperienza confido ancora che ci siano persone che siano interessate al mio programma e quindi apro le porte alle persone che vogliono appunto sostenermi e sostenere soprattutto i punti che io oggi ho presentato. Quindi Caldoro a questo punto, come grandi candidati? Se Caldoro mi offrirà la possibilità senz'altro.